I risvegli stanno diventando sempre più importanti nel mondo di One Piece, ragazzi. Ne stiamo parlando sempre di più, difatti settimana scorsa è uscito un video che secondo me vi può interessare anche solo da recuperare. In quel video lì andavamo a teorizzare i vari risvegli che potevano avere magari i membri della ciurma di Barba Nera in futuro, quindi ci siamo presi del tempo sia per analizzare i frutti in questione che per teorizzare sul loro ipotetico risveglio. Il video vi è piaciuto e a me in generale quell'idea anche ha molto divertito, mi sono proprio divertito a scrivere quel video, ed è per questo che oggi andiamo a parlare degli ipotetici risvegli dei frutti dei protagonisti, dei Mugiwara. Ci sono dei personaggi infatti che meritano di avere un risveglio, sono proprio i nostri protagonisti, i membri della ciurma di Cappello di Paglia, sono loro che si meritano un risveglio. Sono solo tre in realtà i personaggi di cui andremo a parlare, infatti parleremo di Chopper, Robin e Brooke. I loro frutti già li conosciamo, quindi non c'è bisogno di fare un approfondimento su ogni frutto che tratteremo in questo video, ma saranno solo tre teorie molto belle, come piace fare a noi ovviamente ragazzi. Luffy ragazzi, come al solito, è lasciato fuori da questo video, ma non perché odi Luffy, ma semplicemente perché il suo risveglio già l'abbiamo visto, non c'è bisogno di teorizzare su un ulteriore risveglio, a meno che Oda non impazzisca e si inventi il risveglio dei risvegli, ma non credo che questo sarà il caso, sinceramente ragazzi. Prima di cominciare, come al solito ragazzi, un'informazione importante. Solo il 43,2% di chi guarda i nostri video è iscritto, quindi ragazzi mi raccomando, iscrivetevi a questo canale per non perdervi altri video del genere. Tra l'altro è una serie di video che stiamo preparando, proprio questa qua, anche con altri personaggi, quindi se vi piacciono fatecelo sapere e iscrivetevi appunto per non perdervi queste miniserie. Io direi che possiamo iniziare, no ragazzi, e iniziamo ovviamente da Robin. Sì, il primo personaggio di cui voglio parlare oggi è Robin, il suo frutto è il Ana Ananomi, anche detto Fior, Fior, un frutto molto particolare che a detta di Oda è il frutto più utile, almeno secondo lui. Difatti quando gli hanno chiesto qual è il frutto che tu ti vorresti mangiare, lui ha proprio risposto questo frutto qui. Certo, Oda parla da scrittore, disegnatore, quindi insomma questo frutto qua sarebbe super utile. Comunque è un frutto molto interessante, molto particolare, molto molto bello, a me piace molto, che permette all'utilizzatore di creare delle parti del suo corpo in giro, no, per una certa area, e utilizzare queste parti del suo corpo, come le braccia e le gambe, per combattere o per fare altro. Ovviamente non si limita a copiare le braccia e le gambe, ma può farlo anche per esempio con gli occhi, la bocca e le orecchie, quindi può utilizzare questo frutto per sentire, per vedere o per parlare anche a distanza. Frutto incredibilmente utile. E qua per il risveglio diciamo che ci sono due strade completamente diverse, ok ragazzi? La prima è una strada collegata un pochettino di più a quello che abbiamo visto a Nikashima, quindi stiamo parlando del demonio flower. In particolare stiamo parlando di questa forma che riesce a creare Robin. C'è una particolarità, Robin teoricamente riesce a creare solo parti del suo corpo, quindi non può creare cose che non le appartengono, però questa forma qui cambia un pochettino le regole del gioco, perché Robin letteralmente riesce a creare una specie di gigante, ok? Però demoniaco, con delle corna, delle zanne e delle ali, che ovviamente vanno a riprendere anche il suo nome, diciamo, che è stato dato fin da quando era piccolo, ovvero di Demon Child, la ragazza demone. In più, se contiamo che tutto questo è, diciamo, colorato, in modo molto scuro, anche nero, ecco, molti si sono chiesti anche se questo fosse finalmente il risveglio del Lucky di Robin. E in generale si sono chiesti come ha fatto a creare questa forma qui. Diciamo che la risposta che ci siamo dati un pochettino tutti è proprio il fatto che, come fa Robin tranquillamente, per fare tecnico come il gigantesco mano, ha unito varie mani, varie parti del suo corpo per formare queste specie di ali e queste corna, che appunto non sarebbero altro che parti del suo corpo intersecate tra loro per fare queste forme strane. Però ecco, questo potrebbe benissimo essere un ipotetico risveglio, quindi Robin magari con il suo risveglio riesce a creare delle parti del corpo che non le appartengono, quindi parti del corpo che magari appartengono ad altre razze. Le corna potrebbero appartenere, per esempio, alla razza di Kaido, comunque agli antichi giganti, comunque in generale se le può inventare, perché anche queste ali qua, ali da pipistrello, sembra che non le vediamo da nessuna parte nel mondo di One Piece. Ecco, questo è il primo risveglio che può avere Robin. Il secondo risveglio, la seconda teoria che possiamo fare, è un risveglio un po' più simile alla definizione che ci diede Doflamingo con il suo Ito Ito No Mi. Attenzione, non confondetelo con l'Ito Ito di Luffy. L'Ito Ito No Mi di Doflamingo sta per filo filo, secondo Doflamingo, infatti, il risveglio del frutto, soprattutto per quanto riguarda i paramiscia, semplicemente permette all'utilizzatore di utilizzare i poteri del frutto anche al di fuori del suo corpo. Difatti, proprio a Dressrosa, vediamo che Doflamingo utilizza i fili, anzi, utilizza letteralmente dei palazzi per trasformarli in dei fili e attaccare. Se utilizziamo la stessa definizione con Nico Robin, abbiamo un qualcosa di un po' stravagante. Quindi Robin potrebbe trasformare edifici, addirittura interi palazzi, in mani, ok? Senza dover creare tante mani per fare il gigantesco mano, e attaccare in questo modo. Pure farlo con le gambe, farlo in tantissimi altri modi. Ecco, questo è un altro ipotetico risveglio. Particolare, lo ammetto. Però, ci sta, sì, ecco, forse mi piace più la prima, ma è sempre difficile utilizzare in questi risvegli, anche perché ormai, come vi ho detto anche all'inizio, abbiamo tante definizioni diverse. Cioè, secondo Doflamingo è quello che avevo detto prima, quindi utilizzare il potere anche al di fuori del proprio corpo. Invece da quello che vediamo in Igashima, soprattutto per i paramiscia, sono semplicemente delle abilità in più. Se seguiamo la nuova linea di Yoda per i risvegli, quindi la nuova cosa di avere delle abilità in più, dei poteri in più, secondo me la primissima teoria va un po' meglio. Il secondo personaggio di cui voglio parlare, ovviamente, ragazzi, è Brook, il nostro Soul King, uno dei miei personaggi preferiti in assoluto in One Piece. Un personaggio che io personalmente amo e che ha un frutto molto interessante. Qui diciamo che il risveglio, secondo me, ci sta alla grande. Cioè, il potere che ho pensato per questo risveglio, per me ci sta benissimo. Il problema è che forse è un po' troppo OP, però si basa, appunto, sulla definizione che mi hai dato prima. Anzi, su entrambe le definizioni. Quindi utilizzare il potere, no, del frutto, oltre il proprio corpo e avere un'abilità aggiuntiva. Qual è l'abilità principale dello Yomi Yomi? È semplicemente quella di risorgere dopo la propria morte. Ecco, secondo me, un risveglio perfetto per lo Yomi Yomi no Mi è proprio quella di riuscire a resuscitare, magari a un prezzo, magari vendendo parte della propria anima, un po' di anni della propria anima, anche le altre persone. E attenzione, perché, secondo me, questo è un ottimo risveglio, intanto per le due definizioni che abbia dato prima. Quindi, potere aggiuntivo, è utilizzare il frutto anche al di fuori di te stesso. Ok, fino a qua ci siamo. Ma anche, per un'altra cosa, a quanto pare, lo Yomi Yomi ci viene presentato come il nemico naturale di un altro frutto che ha a che fare con le anime. Che è un frutto, secondo me, almeno per adesso, un po' più potente, che è il Soru Soru No Mi. Ok? Anche il Soru Soru No Mi in realtà può inserire le anime, per esempio, negli oggetti. Però una cosa principale del Soru Soru No Mi, almeno per come lo utilizza Big Mom, è il togliere anni di vita alle vittime di Big Mom. Ecco, essendo che lo Yomi Yomi sembra essere un po' il contrario, perché effettivamente Brook, grazie a questo potere, riesce a tenere testa tranquillamente agli omis di Big Mom, proprio a Hulk e Kailant, e viene sottolineato questo parallelismo tra i due frutti, ecco, il contrario di quello che fa Big Mom è donare anni di vita ai personaggi. Ricordiamoci anche un altro tema che in One Piece è presente, è presente molto, e riguarda un membro della ciurma, in particolare, riguarda Luffy. Luffy, nel corso della sua avventura, spesso e volentieri ha perso degli anni di vita. Ok? Questa cosa viene detta più volte, ma talmente tante volte, che secondo me è inevitabile che prima o poi Oda tornerà su questo argomento e ci farà vedere che queste scelte hanno causato dei danni a Luffy, soprattutto nel lungo termine. Queste cose, diciamo, vengono citate quando utilizza per la prima volta i Gear, e anche quando viene curato da Ivankov dal veleno di Magellan. Quindi molti si sono anche chiesti, cavolo, il Gear Fifth, quanto accorcia la vita dei Luffy se aveva difficoltà all'inizio anche con i Gear iniziali, che sono molto più semplici da utilizzare delle Gear Fifth? Ecco, se effettivamente la ciurma dei Mugiwara avesse un potere del genere che invece ridona degli anni di vita a qualcun altro, allora questo problema viene tranquillamente bypassato. Poi, attenzione, è ovvio, è forse troppo OP sotto certi punti di vista, però è un'opzione che a me piace molto, vi dico la verità, mi piace particolarmente. Anzi, vi dico, delle tre teorie che vi presento in questo video, questa è quella che mi piace di più in assoluto. Perché, come vi ho detto, secondo me funziona bene, funziona bene poi con un personaggio come Brook, che è proprio uno cioccolatino, ecco, questo potere qui che salva le vite, nonostante sia uno scheletro, nonostante per alcuni sia addirittura il diavolo in persona, ecco, secondo me è una cosa che calzerebbe a pennello per questo personaggio. Concludiamo questo video, ragazzi, con il nostro caro Chopper, possessore dell'unico frutto Zoan, oltre Luffy, in Churma. Quindi, sì, è giusto parlare di Chopper, è giusto parlare di un suo ipotetico risveglio, anche perché a quanto pare i risvegli negli Zoan sono molto particolari, anche negli Zoan normali, come per esempio quello di Luci e quello di Kaku. Quindi, avendo visto quei due risvegli lì, che sono degli Zoan classici, normali, secondo me anche quello di Chopper, diciamo, è lì ad aspettarci. E anche qui, esattamente come con Robin, abbiamo due strade diverse. La prima, che è quella che tutti i fan un pochettino si aspettano, è magari la fusione, diciamo così, dei suoi vari Monster Point. Difatti, Chopper, grazie ai suoi medicinali, può avere delle forme diverse, tra cui la più famosa, anche appunto il Monster Point, e magari con il risveglio può riuscire ad utilizzarle tutte per avere questa forma magari un po' più snella, ovviamente, magari senza un limite di tempo, come appunto il Monster Point, che ha questo limite di 30 minuti, che è già tanto rispetto a quello che aveva prima. Però comunque è intelligente, veloce, che può scavare, ecco, diciamo che questa teoria girala tantissimo e ormai è un evergreen, perché se ne parla da, credo, dieci anni di questa teoria. Però ce l'ha a dire una cosa, ok? Qua mi odierete, però, quelle tecniche lì, Chopper le raggiunge grazie ai medicinali, ok? Quindi non sono tecniche, proprio intrinseche, diciamo così, del suo frutto, perché in realtà il suo frutto è come tutti gli altri, il suo frutto di base garantisce tre forme, la forma normale, quindi in cui Chopper è un renna, la forma ibrida, che è quella in cui vediamo Chopper praticamente per tutto il tempo, e poi la forma umana, che è una forma che in realtà Chopper raggiunge, ma non diventa proprio un vero e proprio umano, diventa molto molto muscoloso e rimane comunque un po' peloso, ecco. Per questo, secondo me, tutte le altre forme devono stare un po' fuori da quello che sarà il risveglio, perché non c'entrano molto con la vera natura di questo frutto. Quello che però abbiamo detto più volte, quando abbiamo analizzato, per esempio, i risvegli di Luci e di Kaku, e io mi fermo proprio su quelli perché sono gli unici risvegli frutti Zoan normali, tralasciando ovviamente quelli di Impel Down, che lì probabilmente ci sarebbe un altro video da fare su quelli, ecco. Secondo me, quel risveglio lì ci dicono, anzi, quei risvegli lì ci dicono qualcos'altro. Secondo me, quelle forme ibride, tra molte virgolette, quelle nuove forme di, la forma risvegliata, ci suggerisce che in realtà, semplicemente, lo Zoan, quando si risveglia, aumenta le caratteristiche principali di quello che è il frutto del diavolo in questione. Per esempio, Luci si risveglia e la sua forma ibrida è molto più snella della forma ibrida che conosciamo, che in realtà era gigantesca, molto più muscolosa. Questo perché, secondo me, va a sottolineare una caratteristica del leopardo, quindi la velocità. Ok, però allo stesso tempo, comunque, rimane una forma molto molto potente anche per l'attacco. Kaku, invece, che ha il frutto della giraffa, una caratteristica, della giraffa forse, la caratteristica principale di quel frutto, è l'utilizzo del collo. E di fatti, è proprio il collo che ha un'evoluzione particolare in Kaku, perché riesce a utilizzarlo come se fosse una specie di serpente. Ecco, calcolando tutte queste cose, secondo me, semplicemente, si va a prendere quelle che sono le abilità principali del frutto, dell'animale in questione, e si vanno ad aumentare esponenzialmente. Nel caso di Chopper, qual è la grande abilità dell'umano rispetto a tutti gli altri animali? È il cervello. E di fatti, Chopper, soprattutto all'inizio, che quando si vede per la prima volta, sottolinea questa cosa, che lui utilizza tantissimo il cervello, per esempio, è una tattica, inizialmente, che ora, completamente dimenticata, in cui riesce a individuare, per esempio, i punti deboli degli avversari. Non so se vi ricordate questa cosa qua. Ecco, un risveglio, secondo me, potrebbe, semplicemente, andare a toccare l'intelletto di Chopper, che comunque, per Chopper, andrebbe bene, perché, sempre di più, vediamo, che Chopper è messo da parte come combattente, ma è sempre più importante come medico. Vedi, a Onigashima dove, certo, riesce a prendere a schiaffi una calamità come Queen, però il suo vero ruolo è quello di risolvere la situazione demoni ghiacciati. Poi, tra l'altro, c'è anche una teoria in particolare, che dice una cosa interessante. Difatti, Dalton, nel flashback di Chopper, dice che esiste questo fungo, diciamo così, che può curare tutte le malattie. Chopper lo va a cercare, non lo trova, e trova in realtà un fungo velenoso. Secondo alcuni, in realtà, quello che doveva cercare Chopper, che era questa cura per tutti i mali, in realtà esiste, ma è semplicemente il suo frutto del diavolo, che guarda caso, ha proprio la forma di un fungo, ed è stato mangiato proprio lì, proprio a dramma. Ok, quindi, grazie a questo frutto, magari Chopper riuscirà ad aumentare il suo intelletto, e quindi anche a raggiungere il suo obiettivo, il suo sogno, la panacea, la cura a tutti i mali. Chi lo sa, ragazzi? Ovviamente, queste sono solo teorie, però, forse un po' più sensato, diciamo, di una fusione di tutti i point di Chopper. Ora ragazzi, tocca a voi, fatemi sapere che cosa ne pensate, delle tre teorie che ho portato io, e fatemi sapere proprio la vostra, quindi, fate le vostre teorie sui risvegli, perché i risvegli ormai sono uno degli argomenti più interessanti di One Piece, anche se non è un argomento così profondo, ma, ragazzi, a noi piace teorizzare anche in questi termini, quindi, mi raccomando, scrivete la vostra opinione, noi ci vediamo prestissimo con altri contenuti di One Piece, mi raccomando, fate i bravi, e niente ragazzi, ciao a tutti!